a viva si fanno i video di te, poi mi metti con il video no Angioli ma che fai? io volevo fare i video, posso fare i video? nooo mi vinciono, mi vinciono mi vinciono la pappi la pappi la pappi la pappi i vari affini sono i ricordi di vita, sono frammenti però più belli delle foto sono più belle le foto si si, però i video è sotto passa con la macchina beva per me ILO i i i i i Grazie. Grazie.